secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie grazie belle tette grazie mille una masagna so già cosa ho fatto la domanda e perché l'hai fatta non ho capito wow storiose che cosa mi sto segando è venuto sì lo mettiamo su di fans quello direi direi di sì direi di sì è terribile questa cosa mi mollerò per questa causa sei fidanzato ma questo è un supporto emotivo è un supporto emotivo eccoci un po' plastica vuoi provare tu sarai una ragazza stupenda sì billy non concorda che sai che sei abbiamo scioccato sì veramente non hai mai visto un ragazzo con le tette che succede billy? guardaci toccaci toccaci billy billy toccaci billy toccaci billy toccaci perché non ci stai toccando billy billy toccaci billy toccaci billy toccaci buonissimo allora devi andare di bamba greve no ragazzi no queste cose no droga no droga no al massimo sfondatevi di caramelle gommose guarda dove te la senti grazie del consiglio come sta? varia che dolce sto bene grazie no davvero raga sto bene sono abbastanza serena in questo periodo non mi posso lamentare ho avuto periodi peggiori adesso sto abbastanza in pace con me stessa mi sento molto lottatori di sumo vi vestite da lottatori di sumo? no no niente lottatori di sumo purtroppo c'è freddo io ho freddino io ho freddino no no quelle vere raga quelle vere vestito da chiara sale no no niente tutta la sumo purtroppo anche io ci speravo tantissimo cioè ci avevo visto giusto ci avevo visto giusto quindi ho capito? no ora ti facciamo pensare a quel fatto oh cagare no ma infatti no 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 ma poi aspetta Nicole ma ti a parte che minchia adesso sembro veramente l'antitagiata cioè il non è che tipo quella sera nel momento in cui ci si tocca allora poi si passa a scopare selvaggiamente non è assolutamente questo io sto parlando della fase proprio dove frullo grazie nell'euro grazie credici in questo sogno stiamo andando avanti signori salpati sulla nave perché oggi oggi facciamo la storia signori e signori oggi si vai finta carica vai di qualcosa e continua sì signori sì ma io sento il coso ma non si vede forse scavati modona quelle tette vi ricordate quelle che avete toccato nel 1912 quelle che spruzzi e spruzza nell'alto ovunque aiutiamo queste cazzo di tette aiutiamole volete toccarle sì ma vedete vabbè non importa facciamo finta di niente dai tu Stefano intrattini grazie mille gimento armato arriviamo subito e io e Billy ci cambiamo ha fatto un fail ma che hai fatto? niente di troppo vabbè ok grazie per questa questa chiamata alle armi con il 90% delle persone che non non sopporto sto scherzando com'è? posso toccare il tuo sudore? scusatemi scusatemi ti sta uscendo una puntina a me non credo no 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 com'è per la sabrecata Giulia che cazzo avete fatto raga? no non denudatevi vi prego non sai che mi sono denudata in che senso ti sei denudata? mi dicevi togliere la giacca raga che me la tolgo no raga non denudatevi aspetta un attimo dai adesso usciamo e no che avete fatto raga? vi state spugnate dietro veramente? vabbè non importa facciamo finta di niente dai tu Stefano intrattini grazie mille gimento ma una domanda vi piaceremmo di più se fossimo così? sì no ma così so troppo no cioè immagino avere gennaio vedi è meglio facciamo un paio di pose sexy certo dai vieni facciamo esatto gennaio-febbraio bello fra poco capirete ve lo prometto fra poco capirete tutto grazie per i cinque occhi occhi mi sta pisciando va che si vede nel plasma oh mio dio oh però sei guarda che non stai male comunque cioè sei molto più aggressiva buona prova donati per la fondazione da domani in poi anche tu ci avrai la roba delle donazioni quindi come vi dicevo questa è la prima live di un mese ok quindi da domani letteralmente se voi andate anche nel sito trovate si chiamano squadre ma per farla easy cioè trovate tutte le ragazze che streameranno che appunto diranno questa roba questa settimana abbiamo il 25 anche Kodomo che farà una live dedicata come abbiamo fatto noi così noi l'abbiamo fatta quindi di base avrai sempre donazioni attive ma verrete perdonate questo è gennaio che cambia cosa che cambia febbraio marzo per il mio compleanno grazie mille Daryl per i 100 euro domani ve lo faccio sapere vabbè al massimo ragazzi si rifà però questa volta ha forse ragione Hans mi ribellano mi ribellano vengo a vedere te vengo a vedere te guarda che bella guarda che bella trecce tu perché sai fare le trecce lui è bravo lo so fare tu tu sai fare le trecce minca so fare anche dei massaggi guarda io che ho almeno vent'anni allora vedi che c'è un problema com'è io tu sei tu tu li avevi così se non hai visto la foto oh no e me che penso le lezioni sono più cattive non lo so quando parla sembra proprio si fidati non è a volte a volte un po' pesante però meglio Billy Bella o Maria Sofia Maria Sofia a proposito tu conosci il gioco Twister certo voglio giocare a Twister chill ma dove lo è qua tu intratemi un attimino noi andiamo a cambiarsi ok complicato adesso vedrete la roba seria cosa vi aspettate raga da questa cosa è una cosa molto divertente se vogliamo pure le tue di tette raga non le ho non le ho ma dopo forse dopo forse dove hai comprato la giacca da perché per un futuro video ovviamente quindi micro pezzettino ma raga mi sono accorta di fare cagare e quindi non lo posso far no lo posso far Miente che non vi...